Parliamo un attimo di questo sentiero realizzato dal Comune e soprattutto la valorizzazione ambientale in questo caso. Certo, è un altro aspetto importante perché come dicevo prima la natura, non solo natura, non solo sole, non solo mare, ma anche la possibilità di godere, di passeggiare, di avere tempo libero, di avere relax. Quindi questo rientra in questo discorso, abbiamo ripristinato questo sentiero ad Ogliastro Marina che era un antico sentiero che collega a Piazza Giovanni Paolo II al lungomare delle Tartarughe attraversando questa pineta fantastica di Pini d'Alepe. Un altro stiamo completando a San Marco che sarà in via Marinelli e che inaugureremo penso la settimana prossima. Stiamo completando anche lì l'illuminazione e quindi è un percorso che era buio, che praticamente va dal porto, collegherà la zona retrostante della Capitaneria per arrivare al sentiero Il Pozzillo, per via Marinelli, arrivare a via di Bartolomei. Sono un percorso naturalistico altrettanto bello perché non ce n'è nessuno che è da meno, sono tutti i percorsi che costeggiano il mare. Quindi stiamo intervenendo proprio in questi giorni su questo intervento. Conto settimana prossima di poter arrivare anche all'inaugurazione e rendere anche lì un percorso che chi lo farà sicuramente resta la bocca aperta. Grazie a tutti.